l'infantilizzazione buongiorno meraviglie meravigliose l'infantilizzazione della vulva ma cos'è la vulva? la vulva è ciò che noi chiamiamo vagina in realtà la vagina è il canale vaginale ma le piccole labbra le grandi labbra il clitoride questa è la vulva tutto l'insieme del nostro apparato genitale è importantissimo fare questa distinzione non trovate? e dicevo l'infantilizzazione della vulva che si chiama e patatina e cipolline ma noi siamo donne sin da quando abbiamo avuto la prima mestruazione sin da quando ci sono cresciuti i peli e questa cosa di doversi depilare e togliere tutti questi peli per sembrare sempre più delle vergini ancora riflettiamo su questi concetti riflettiamo su quanto è depauperante per la donna e per il suo potere questi questo stereotipo di infantilizzazione che passa attraverso il linguaggio e attraverso l'immagine rosa delicata liscia ma non possiamo farci limitare da uno stereotipo di vulva la vulva è sacra meravigliosamente sacra e noi siamo donne nel nostro potere vi amo mi amo ci amo la vostra nan al servizio grazie